Salve, siamo tornati su un gioco, un gioco di quelli brutti Eravamo rimasti ragazzi che avevo fatto fuori quel ragnozzo gigantesco Perché giustamente quei ragni giganti vanno fatti fuori Cioè non è che posso stare tutta la vita Che schifo sti pezzenti Vabbè, eravamo rimasti là Ma che ho? Che ansia di... Sto facendo avanti e dietro dal mio studio Salve, mi scusi Ma come? Ma dov'è? C'è un'ombra che non esiste Com'è possibile? Eh, dovrebbe essere esattamente qua, non la vedo C'è un'ombra che non esiste Ah, è scomparsa adesso La finiamo di prendermi per il culo C'è satana nell'ufficio? Scusate, ho bisogno di capire Oh Cos'è? Oh, santo di Dio Un minuto che arrivo Arrivo un attimo Sto capendo cosa fare della mia vita Vabbè, vabbè, allora andate a cagare tutti Minchia, ho delibero adesso Ma vaffanculo, va Che cosa è successo? Turn it down for what? E apri la porta Fa qualcosa Io ragazzi non riesco a comprendere Ah, si è spenta la luce Tutto a posto Meraviglioso Wow Mannaggia alla miseria E mo? Allora La smettiamo di farmi vedere foto distorte di gente Su Photoshop Vabbè, ma in tutto questo dovrò aprire una porta Fare qualcosa C'è qualcuno che mi sta fischiando nelle orecchie Dio, che fastidio Fatemi usci... Mi fate fare qualcosa... Qualsiasi cosa Che non sia subire Il demonio Maronna, che fastidio Mannaggia alla miseria Ah, posso entrare qua Finissimo Saving Mi fate uscire da sto ufficio di merda? No Non mi fanno uscire Cos'è, è finito? C'era un fischio Tra l'altro che bruttissimo ufficio Mamma mia C'è una chat Hello Tra l'altro è una macchina palesemente fake Perché sta... Sembra che sia sul ghiaccio Sta slidando Ah, era una live The broadcast will be on air soon Stay tuned Laked Cosa è successo? Abbiamo... Ho riscontrato problemi di segnale Ma sono tornata Basta impersonare gente Che va a cercare i fantasmi Basta Già c'è i miei problemi C'ho l'ufficio Che mi appendono le foto Cos'è? Famo sui... Orca puttana Lo vedete? Non sto vedendo niente Sento una bambina che ride Anche se non ho capito dove E in tutto questo sto girando in un pianerottolo Bruttissimo Tanto questa è una bu... Come... Questo non è un rilevatore di fantasmi Ragazzi è una fottuta bussola Ve ne siete resi conto Pronto satana? Sembra ci sia stato un rituale qua Beh sì tanto guarda Ecco le banane Sposta il coso La smettiamo di evocare il demonio della birra Anche chiamato Nicky Box Wow 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 Vuoi Giovanni La smettiamo di accendere le candele In questi posti di merda Tanto si chiuderà la porta tra 3, 2, 1 Porco demonio Porco Minchia A posto Ah ero ancora nel monitor Mi sono piaciuto un infarto Tutto sto casino per cosa poi tra l'altro Che cosa è successo Ah mi ha portato esattamente dove ero prima Ok adesso mi sono nascosto io nell'armadio Incriminato va bene Minchia la tavola Ouija Thailandese La devi muovere col dito medio fantastico Quanti anni hai Ma che cazzo Ma posso alzare lo sguardo per vedergli la faccia Dov'è Kiki Dov'è Keti Chi se ne frega le Kiki Chi ti vuole L'ha spiegato Ah me lo sta spiegando Beh puoi semplicemente alzare lo sguardo E chiederglielo Chissà che faccia Mamma mia Sì però Oh Chi è che è il monaco che sbatta le porte Basta Micchia mi ha fatto in tempo a nascondermi Oh sacro santo iddio Mi è venuto in mente che se qualcuno sfondava la porta Io non potevo far nulla Allora ho detto vabbè mi filo nell'armadio Oh abbassa quella voce da galina Sono chiuso io nell'armadio alla fine Non mia sorella E quindi Non la vedo Meno male Procca troia Ah no è qua è qua è qua perfetto Mannaccia Luke Forchetti Stay alert Eh c'ha tanto guarda S'ha finiti qua comunque tutto sto casino Dov'ero prima con la Con la tipa paranormale C'è quella che cercava Prove paranormali Comunque ragazzi non andate in giro a cercare Come minchia c'è entrata questa qua dentro Ma che figo Luna park in the house Lo sai vero che se qua passa tipo per caso una Non ci può passare Muori se passi con la Muori No ecco Ci sto andando ma effettivamente non è proprio safe Immagino io debba raggiungere un'altura diversa Quindi mi butto qua su Ecco Cosa sto vedendo Cosa Che gioco è diventato questo Spiegami Dov'è che sto Dove sto andando Cos'è sta roba Quindi mo' devo 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 buttarmi sull'altra Dall'altra parte immagino Questa la sono studiata bene sta roba E quindi Mi butto qua Perfetto Tutto giusto Non so neanche Che i graffiti florescenti mi mancavano ragazzi Allora E non so se devo andare o qua o là Fammi vedere se c'è il possibile Ma facciamo che vengo qua va Eh Molto bene Signori Signore Maledizione Ce la dovrei aver fatta Teoricamente Ta 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 Pappo Ah minchia E non pensavo di farlo così bello Osho che si schianta Osho Minchia Pensavo ci fosse qualcuno nel buco Mi sono cagato sotto E mo' Ah devo prendere il coso Ah Eh la madonna Devo seguirlo Addirittura Ti seguo Non fare giri strani Nell'edificio Perché poi devo fare Devo fare Casini io Quindi per cortesia Rendimela semplice Mannaggia C'è uno smartphone What No 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 Basta basta Ah era quella di prima Che fine ha fatto Entrata nella 111 Ok l'ho vista Follow Kiki tu 111 Va bene E come si scende Ah c'è la Shenzour Shenzour Grazie 111 Molto bene Molto chiaro Tutto chiaro Permesso Devo andare Nell'accento Madonna Che belle giostre Mamma mia ragazzi Che figo però È un'immagine Stranissima Bellissimo gioco Ragazzi ma che Di cosa stiamo parlando Ma cos'è Ma cosa sto gioco Qual è il problema Di sto gioco Oh santo di Dio Mo la prendo Mo spunta la chiave La prendo eh Eccola Prostiki Prendila vai Ciao No 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 Non volevo salire Non volevo Quelle sono le mount di Warcraft Non volevo salire sopra Non volevo salire Sono salito Ma senza motivo Beh però allegro Almeno quello Tranquillo Tranquillo È una giostra come un'altra Tranquillo Guarda meno Netflix Secondo me E sono gli horror Il problema Ma vabbè Non ho capito Non ho capito sinceramente Tutto sto casino Comunque la chiave ce l'ho Fantastico Let's go Tutto sto casino Per trovare una stanza Di merda Dove non c'è niente Niente Tutto sto bordello Per che cosa Ah c'è qualcosa qui Kiki's car key Le chiavi della macchina Di Kiki Ah Figurati Si è chiusa la porta E io sto qua Io me le mango Io rimango dentro la cucina Perché tra un po' Sfonderà qualcuno Sicuro Aspetta aspetta Fammi vedere Prima se si apre Ah no si apriva Ah Musavo i teletrasporto E dillo E che ne sacci Maronna Rugarman Che brutta roba ho visto Sacro santo iddio Ragazzi Facciamo che la continuiamo Nel prossimo Bel gioco Però mi piace C'è proprio il gioco C'ho voglia di giocare Sta roba Io la mattina Soprattutto mi metto lì Poteva avere un lavoro normale No Spero il video vi sia piaciuto Ragazzi Schiacciate il canale Schiacciate il tasto Mi piace E noi ci vediamo Come sempre Ad un prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti